Avvocato Nocita, questa mattina nei nostri studi insieme ad una parte dei dipendenti ex romano, diciamo così, degli ex dipendenti romano, per darci una buona notizia, quella che attendavamo. Vogliamo dare una bella notizia a Crotone e all'intera provincia. I lavoratori che erano stati licenziati il primo di aprile, il tribunale si è espresso con provvedimenti che hanno accolto interamente il loro ricorso. I licenziamenti fatti il primo di aprile sono stati dichiarati illegittimi, nulli, quindi devono essere reintegrati al proprio posto di lavoro con anche un'indennità risarcitoria. Quando siamo stati qua abbiamo parlato di tante cose, attendavamo che il giudice si esprimesse e speravamo, anzi credavate, che si sarebbe espresso come poi è accaduto. Adesso cosa bisogna aspettare, che cosa accadrà? Allora, guardi, dottoressa, sono stati mesi molto intensi per noi, perché quando abbiamo fatto l'intervista da lei è stato il 28 di ottobre, non lo dimentico, perché subito dopo sono iniziate le udienze. Abbiamo fatto 13 udienze tutto il mese di novembre. Il tribunale si è espresso naturalmente il 13 di dicembre, poi gli altri il 16 di dicembre, gli ultimi il 19 di dicembre. Cosa aspettiamo? Aspettiamo che la Fratelli Romano convochi questi lavoratori e li faccia lavorare, come naturalmente è stato chiesto, il diritto di poter lavorare. Era importante questo riconoscimento? Era importante per i lavoratori? Era importante per il lavoro svolto anche da voi avvocati? Allora, era importante per loro, soprattutto, al di là del lavoro svolto dal mio studio legale. Io, l'avvocato Nocita, l'avvocato Pellegrino, il dottor Roberto Carabetta, che è stato il nostro consulente del lavoro, che ci ha praticamente aiutato in questa vicenda. Ma quello che mi preme dire è che è stato riconosciuto il diritto di lavorare. È una cosa veramente bellissima. Io in questi giorni, sono stata, i primi giorni stavamo naturalmente con ansia, perché sono state delle udienze molto combattute, e anche, diciamo, con toni alcune a volte elevati, ma non perché si volesse offendere nessuno, ci mancherebbe pure. È perché volevamo far capire al Tribunale di Crotone le doglianze, le motivazioni di questi lavoratori che noi abbiamo sposato. Siamo naturalmente felici che il Tribunale di Crotone, la sezione lavoro, ben tre giudici, si sono espressi in modo univoco interamente, accogliendo le loro motivazioni. Quindi speriamo al più presto che la Fratelli Romano ci convochi, ma più che altro convochi questi lavoratori, e li faccia prendere al più presto il loro posto di lavoro.